Ciao, sono Anne, Digital Business Coach. La mia missione è quella di aiutarti a creare un business di successo partendo dalle tue passioni. Allora, tu sei la media delle 5 persone che frequenti più spesso. A sostenerlo è Jim Rohn, un famoso autore motivazionale americano. E sai, trovo che abbia completamente ragione. Scegli con cura le persone che vuoi frequentare, perché hanno un impatto molto importante su di te. Trova degli alleati, delle alleate che ti supportino e non delle persone che ti remino contro ad ogni tua nuova idea. Più ti attornerai di persone in grado di motivarti, da cui prendere esempio, che sono capaci di incoraggiarti genuinamente, più ti convincerai di potercela fare e più la tua mente sarà pronta a creare il successo che desideri davvero. Ecco perché nel 2015 ho deciso di creare Smart Women, un mastermind online gratuito creato appositamente per le donne imprenditrici come te. Smart Women ti mette a contatto con altre donne che stanno vivendo un percorso simile al tuo. Magari stanno affrontando problematiche simili, oppure hanno degli obiettivi simili, e forse hanno anche già capito come superare delle difficoltà che tu stai vivendo. Immagina di poter contare sul loro aiuto per ripartire, chiedere consiglio, dare dei suggerimenti, ricevere spunti e sentirti supportata costantemente. Sai, talvolta tutto ciò di cui avresti bisogno per sbloccare quella situazione in cui ti trovi è semplicemente riuscire ad adottare un punto di vista diverso, perché da sola è difficile farlo, perché magari le abitudini potrebbero impedirti di vedere delle strade alternative. Quindi Smart Women ti consente di ricevere consigli da altre donne competenti in materia, ma esterne al tuo business, così da ampliare la prospettiva e trovare nuove soluzioni. E molto spesso è difficile rimanere focalizzata e motivata, perché manca qualcuno a cui rendere conto. Essere la capa di te stessa richiede molta determinazione e autocontrollo. E grazie agli incontri di Smart Women puoi tenere traccia dei tuoi progressi ed essere incoraggiata a tenere fede alle intenzioni dichiarate e impegnarti maggiormente a raggiungere i tuoi obiettivi. Le iscrizioni a Smart Women sono ancora aperte per poco, quindi se vuoi far parte del gruppo affrettiti e iscriverti.